Stefano Mazzucchelli, 42enne, va a resotto, residente a Londra, è partito in bicicletta per rispettare la promessa fatta al padre, morto di Covid ad aprile. Carlo Mazzucchelli, che avrebbe compiuto 70 anni a settembre, si è ammalato a marzo in piena pandemia. Ricoverato in ospedale le sue condizioni non erano parse particolarmente gravi, tanto che il figlio gli aveva promesso quando guarisci vengo a trovarti da Londra in bicicletta, in pochi giorni però le sue condizioni sono peggiorate ed è venuto a mancare all'inizio di aprile. La famiglia per giorni non ha saputo nulla di lui. Ora Stefano ha voluto mantenere la sua promessa, ha lasciato la famiglia a Londra, ha preso un traghetto per la Francia, poi ha pedalato per 200 km al giorno, passando per la Svizzera e superando le Alpi. In paese, oltre alla madre, lo attende tutta la cittadinanza. Ci sarò anch'io ad aspettarlo, la famiglia me lo ha chiesto e sono ben felice di partecipare a questo momento, ha raccontato il sindaco di Lonate, Nadia Rosa. Il padre di Stefano, Carlo Mazzucchelli, è stato una delle quattro vittime che abbiamo avuto in paese per il coronavirus ed è stato un lutto che ha colpito in modo particolare per le modalità in cui si è consumato. L'uomo era infatti morto di mercoledì, ma la famiglia lo aveva saputo solo il sabato.